Ehi la salve a tutti sono ThePlayer96 e benvenuti in questo nuovo video tutorial Allora ragazzi prima di cominciare questo video ci tenevo a ringraziare tutti i 448 iscritti State salendo veramente velocissimi ultimamente quindi grazie, grazie a tutti ragazzi E anche un grazie mille per tutte le visualizzazioni che mi state dando Quindi vuol dire che vi stanno piacendo i video che sto facendo e di questo ne sono molto molto contento Ma vabbè lasciamo perdere queste piccole cosicce della cacca E si ragazzi è un tutorial su come installare un nuovo launcher che è presente di Minecraft Ovvero la T-Launcher Vi lascerò questo link qui in descrizione Come al solito io devo sempre arrivarmi qualche messaggio durante il registro Ah si, vi lascerò questo link in descrizione In cui appunto sarà il sito della T-Launcher Andate qui su download, c'è scritto bello in grande Ci sarà anche il video di installazione ma comunque ve lo faccio vedere io come si fa Cliccate download per la versione che voi avete Ovvero per Windows, per Mac o qualsiasi altro sistema operativo esistente nell'universo Ok, una volta fatto questo Andate su il vostro desktop Cioè lo salvate dove volete Adesso non mi ricordo dove l'ho messo Vabbè, vi scaricherà praticamente questo file T-Launcher.exe Lo mettete dentro una cartella dove vi pare Non lasciatelo sul desktop o da quelle parti Perché vi creerà tutta questa roba Quindi mettetelo in una cartella Io ad esempio ho creato una cartella sul desktop Chiamata T-Launcher, l'ho messo qua dentro Lo aprite Una volta aperto Lui si installerà tutte le cose che gli servono Adesso devo Tentare e facci stare tutto Dentro questa schermata Ok, sì ragazzi perché ho messo XSplit Con la visuale piccola Perché, non so perché Lo screen region di tutto lo schermo Mi crash il programma Quindi mi è toccato far così Ok, si vede Il launcher ragazzi è questo qui Quello che vedete qua sotto C'è la console ovviamente come tutti i vari launcher E abbiamo vari pacchetti Ah, dove? Non ce ne sono Oh Ah, niente C'è il solito problema di qualsiasi launcher Che se sto Registrando Se sto registrando Non me li carica Non so perché A posto A vero ragazzi Nella sezione pack Nella sezione pack Troverete tutti questi vari pacchetti Ve li faccio vedere da qui Che faccio prima Eh, vabbè Andando su get a pack Si potrà vedere Era su get a pack Ah no Ok, su pack Scusate Qui possiamo vedere Tutti i pacchetti presenti Nella launcher Ce ne sono veramente tanti E come vedete ragazzi Sono tutti aggiornati Per minecraft O 1.6.4 O 1.6.2 Come vedete Vabbè A parte questo Che è ancora Più nuovo Perché è minecraft vanilla E c'è Vabbè Alcuni vecchi ce ne sono comunque Per chi li volesse Si ragazzi Non so più parlare E da questo launcher Appunto Potete scaricare Tutti questi pacchetti Aggiornati Alle nuove versioni Nel pacchetto Cioè nel launcher Scusate È presente Questo pacchetto qui Dov'è Instance Il pacchetto Overload Overload ragazzi Se vi ricordate Era sull'FTB Adesso è stato passato Appunto su questo launcher Ed è aggiornata La 1.6.4 Ehm Quindi Voi da Da pack Ovviamente Adesso a me Non me li carica Perché è uno schifo Dai Da qui potrete Tranquillamente Scegliere tutti i pacchetti L'overload Per il momento Sembra quello più stabile Poi che altre cose abbiamo Abbiamo appunto La sezione account Che serve per Aggiungere il nostro account In modo che ci Faccia entrare nel gioco Ah Una cosa che ho detto Ragazzi È soltanto per premium Quindi niente sp Da qui appunto Mettete il vostro username La vostra password Eccetera eccetera E lo aggiungete qua sotto Su settings invece abbiamo La lingua Vi consiglio di lasciare inglese Perché a volte quella italiana O crasha Ehm Il livello del Delle istruzioni di forge Se vogliamo dirlo così Di quello che fa forge Nella console Se volete Varie cose Io vi consiglio di non toccarlo Se non Se non Dovete fare Cose Elaborate Con forge Eccetera eccetera Download server Non toccatelo Lasciatelo automatico Nel caso Gli altri server Non funzionino La RAM C'è da dire che La maggior parte Dei pacchetti Questo launcher Ha bisogno Di almeno Almeno Due giga di RAM Però se mettete anche Un giga e mezzo Come ho messo io Qua Vi funzioneranno perfetti Per il permgen Invece ragazzi Non mettetelo Maggiore di 512 Perché Ehm La memoria Con cui verrà avviato Java Se voi lo avviate Con 512 Lui occupa 512 mega Di Java Più i 1500 Dedicati per minecraft Per cui ragazzi Esplode la RAM Quindi se non avete Almeno 8 giga di RAM Non mettetelo più I 512 Windows Sites Invece La grandezza Della finestra Come questa finestra qui La grandezza Con cui si apre minecraft Di solito È più o meno grande Così Che questa misura qua Parametri di Java Ragazzi Se non conoscete Java Non toccateli Se volete Far partire in minecraft A tutto schermo Se volete Che mette i pacchetti In ordine alfabetico Se volete la console Se volete L'headerboard Vabbè La classifica Non so Non so cosa serva E se volete Il logging Che se è appunto Questa roba di forge Poi Una volta che avete impostato Cliccate salva Vi scegliete il pacchetto Che volete Una volta che l'ha scaricato Lo trovate appunto qui In instance E cliccate play Basta Tutto qui Spero ragazzi Che questo Tutorial Vi sia Stato d'aiuto E se è così Lasciate un bel Pollizione in su Spero che Si senta meglio Il microfono Ragazzi Perché Ho preso uno Vecchio Vabbè Quindi Da ThePlay96 è tutto Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie.